Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 in apertura. Parliamo della manifestazione a Roma che si sta tenendo proprio in questi minuti. È iniziata poco prima di mezzogiorno la manifestazione organizzata dalle province abruzzesi e da moltissimi comuni della regione per protestare contro gli scarsi provvedimenti contenuti all'interno del secondo decreto sisma in via di conversione. Alla manifestazione partecipano circa 1500 persone arrivate nella capitale con 35 pullman. Una rappresentanza nutrita di presidenti di provincia e sindaci abruzzesi si è staccata poi dal presidio di manifestanti presenti in quel momento di fronte a Montecitorio per partecipare a un incontro con la presidenza della Camera cui hanno presenziato anche il presidente della Commissione Ambiente, Ermete Rialacci, parlamentari abruzzesi e i vicepresidenti Luigi Di Maio e Marina Sereni. Poi ancora una delegazione sempre di manifestanti guidata dal presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino e dal sindaco Maurizio Brucchi si è spostata a Palazzo Chigi. Al confronto partecipa anche il sottosegretario al MEF, Paola De Micheli. Proseguiamo con la cronaca perché questa mattina il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso ha voluto incontrare la stampa per chiarire la sua posizione, per dire la sua sull'inchiesta che lo riguarda l'inchiesta su alcuni appalti gestiti dalla regione Abruzzo e in particolare sulla vicenda del fondaco della città di Penne. Ascoltiamo dunque cosa ha riferito il presidente della regione nel servizio di Paolo Renzetti. Io mi sono mosso per aiutare un comune, che come dice Monteschiè è nato con Dio, che aveva bisogno di alienare un bene comunale per rientrare nei termini del patto di stabilità e non subire sanzioni finanziarie. Una esigenza quella del comune di Penne che è stata fortemente spinta anche dal revisore dei conti comunali. Pervengono qui degli amministratori, io mi attivo come faccio sempre, come ho fatto cento volte prima e come sono convinto che farò cento volte dopo. Non mi meraviglio dell'esigenza di rilettura gius penalistica perché c'è tutta e prevista all'ordinamento. Sono qui a dare la mia collaborazione in qualsiasi modalità. Però voglio che la cittadinanza sappia di cosa è composta la vicenda. Un fondaco ad uso commerciale portato avanti da tempo, oggetto di una delibera di alienazione comunale che per via dell'esigenza di un parere del MIBACT, Ministero dei Beni Culturali, c'era bisogno di questo visto per poter procedere alla vendita e all'incasso del ricavato da parte del comune per rispettare il patto di stabilità. La rottura delle leggi e delle regole, se manca l'interesse privato, diciamo non mi preoccupa e non mi infastidisce. Non mi sento un inseguito, non mi sento un perseguitato, però sono fortemente animato da una volontà di perseguire l'interesse pubblico. Quando questo c'è io sono lì ad attivarmi e, ripeto, non sono infastidito per l'attività di rilettura. Spero che la documentalità pervenga tutta per avere velocemente chiarezza definitiva. Perché quando c'è un dubbio, quando c'è un'esigenza, è bene che questo lo si faccia nei confronti di chiunque. Anche nei confronti del Presidente della Regione che più volte è destinatario di richieste di sindaci, di presidi scolastici, di altre autorità. Io sto per mettere in campo un'attività corposa di verifica sismica delle scuole. Anche questa, diciamo, sospende qualche normale procedura amministrativa, ma prevale l'interesse pubblico della verifica sismica. Con questo spirito ho sempre fatto il mio dovere. E ora parliamo del processo a carico di Fabio Dilello, imputato per l'uccisione di Italo De Lisa lo scorso febbraio a Vasto. Stamani l'apertura del processo in Corte d'Assise a Lanciano. I legali dell'imputato Giovanni Cerelle e Pierpaolo Andreoni del Foro di Vasto hanno preannunciato la richiesta di rito abbreviato, condizionato a perizia psichiatrica e all'esclusione della premeditazione del delitto. I familiari di De Lisa, genitori, fratello e zii paterni, hanno presentato la costituzione di parte civile, patrocinati dagli avvocati Pompeo del Re e Gianrico Ranaldi. Un tribunale di Lanciano quest'oggi blindato, rigorosi e imponenti i controlli. Ascoltiamo le parole dei legali dell'imputato Fabio Dilello, Giovanni Cerella e Pierpaolo Andreoni. L'avete visto poi in udienza che ha chinato la testa, insomma si vergognava, è provato e che è molto sensibile. Io ritengo sempre che lui ha commesso l'illecito grave per la sua sensibilità, poiché lui aveva acquistato la pistola 5-6 mesi prima perché voleva togliere, si voleva uccidere se stesso. Questo è il punto fondamentale che sarà poi discusso in dibattimento. Il ragazzo attraversava un gravissimo momento psicologico, era morta in modo violento la moglie, un percorso di sofferenza che oggi avete avuto modo di vedere come è ridotto il ragazzo. È ingassato di più di 30 chili, ha momenti in cui non ha contatti con la realtà, vive una sua immaginazione, un suo mondo. Noi dobbiamo difenderlo, lo difenderemo sicuramente. Lo difenderemo e cercheremo di risolvere i suoi problemi perché questa sensibilità ha toccato anche la difesa, cioè lui che andava dopo la morte della moglie quotidianamente al cimitero di pomeriggio, si tratteneva fino alla sera, quindi pensava sempre alla signora, acquistò, ripeto, per l'ultima volta la pistola 5-6 mesi prima per eliminare se stesso. Questo è l'aspetto. Questo dovrebbe togliere la premeditazione. La procura invece ha confermato l'accusa di omicidio volontario premeditato, dice il procuratore capo di Vasto di Florio. Mi auguro un percorso sereno del processo. Qui a Lanciano ci sarà meno tensione e pressione. Le richieste della difesa sono previste dal codice penale, è un loro diritto. Noi ne prendiamo atto, dice sempre il procuratore di Florio, affiancato dal sostituto Gabriella De Lucia. Così ha commentato la prima udienza in Corte d'Assise per l'omicidio di Delisa. Prossima udienza il 10 di marzo. E ora cambiamo pagina. Diventa operativa la prima area interna regionale tra le quattro individuate dalla regione nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. La giunta regionale, su proposta dell'assessore Gero Solimo, ha dato il via libera alla sottoscrizione dell'accordo di programma quadro per l'area interna Basso Sangro Trigno. Diventa operativa la prima area interna regionale tra le quattro individuate dalla regione nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alle aree interne Andrea Gero Solimo, ha infatti dato il via libera alla sottoscrizione dell'accordo di programma quadro per l'area interna Basso Sangro Trigno. L'APQ, spiega l'assessore Gero Solimo, dovrà essere sottoscritto tra Stato, Regione e Comune capofila in modo da rendere operativi tutti i progetti inseriti nella strategia, le fonti finanziarie, la copertura degli interventi e i cronoprogrammi di realizzazione. L'accordo che andremo a sottoscrivere, ha aggiunto l'assessore Gero Solimo, è frutto di un intenso lavoro sul territorio che ha portato ad un confronto con gli amministratori sulle reali esigenze di sviluppo dell'area Basso Sangro Trigno. Non è un caso che quest'area farà d'apripista anche per le altre tre aree individuate dalla Regione all'interno della strategia nazionale e sulle quali è già partito il lavoro di confronto sul modello utilizzato per la Basso Sangro Trigno. L'elemento di novità inserito nella strategia nazionale è l'individuazione di una serie di finanziamenti diretti connotati dalla specificità territoriale. Su quest'area, ha aggiunto l'assessore alle aree interne, abbiamo individuato risorse per oltre 7 milioni e mezzo di euro provenienti dai fondi europei 2014-2020 del FESR, dell'FSE e del FEASR e da fondi regionali per 2 milioni. In questo modo, ha concluso l'assessore Gero Solimo, diamo agli amministratori locali certezza sulle linee di finanziamento per l'attuazione dei progetti, ma soprattutto diamo concretezza ad un impegno politico che questa giunta regionale ha assunto nel suo programma di mandato. Ora andiamo all'Aquila perché questa mattina c'è stato un incontro per il protocollo per la realizzazione della cosiddetta Casa della Comunità a Campotosto. Vediamo. Nell'ambito della campagna nazionale di raccolta fondi per il terremoto del centro Italia, destinata alla realizzazione di strutture di utilità comunitaria nei principali centri colpiti dell'Abruzzo, del Lazio e delle Marche, l'ANA Abruzzi, l'associazione nazionale alpini, ha siglato un protocollo di intesa con il comune di Campotosto per la realizzazione di una struttura definibile come la Casa della Comunità. Devo ringraziare in particolare il Presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero che abbiamo incontrato dieci giorni fa proprio per aver voluto sposare questa causa e il fatto che ci permetterà, noi riteniamo prima dell'estate, conoscendo ben bene l'operatività che i nostri alpini sanno approfondire nelle loro azioni, una struttura che verrà allocata in un terreno di proprietà comunale già predisposto all'uopo dal comune e che possa essere utile non solo per come sala polifunzionale di una certa dimensione, ma anche per ospitare tutte quelle funzionalità che sono necessarie, non solo in tempi di guerra come Sordizi in questi casi, come COC, come le strutture istituzionali preposte alla gestione dell'emergenza, ma anche c'è per esempio il locale tecnico per gestire il tema, insieme a Enel e Comune, il tema della Liga di Campotosto e un po' anche le altre attività. Giornata di formazione organizzata per domani dalla Federazione Nazionale degli Agricoltori all'hotel Villa Elena di Tortoreto, al centro dell'attenzione il contratto di fornitore elettrica, le nuove regole e poi le procedure da attuare per chiedere i risarcimenti per i danni dovuti al maltempo. Con Vincenzo Tassoni, segretario regionale della Federazione Nazionale Agricoltura, parliamo del prossimo appuntamento del 3 di marzo rivolto ai consumatori. Per quanto riguarda? Non soltanto ai consumatori, ma anche agli agricoltori e alle aziende agricole. Il 3 di marzo, su mia iniziativa, in concerto con le segreterie della FNA Marche e Umbria, abbiamo indetto una giornata di formazione e di informazione che si dirà alla Villa Elena di Tortoreto, Lido. L'occasione l'ho presa a seguito del fatto che dal 1 gennaio 2018 cambiano le regole per le utenze elettriche e quindi la nostra organizzazione a carattere nazionale è una delle organizzazioni accreditate per seguire, per fornire consigli a tutte le utenze che volessero riceverne. Quindi per questo motivo, sapendo che comunque dal 1 gennaio si dovrà scegliere una organizzazione di fornitura libera sul territorio nazionale, si dovrà scegliere obbligatoriamente, allora abbiamo pensato di invitare qui dalla nostra zona il Presidente nazionale della Unione per la difesa dei consumatori che ci darà tutte le informazioni al riguardo. Quindi il 3 di marzo a Villa Elena di Tortoreto, Lido, con inizio alle ore 10, ci sarà questo grande appuntamento. È chiaro che come segreterie regionali della Federazione Nazionale Agricoltura, dopo tutto quello che è successo in questi ultimi mesi, coglieremo l'occasione anche per informare tutte le piccole e medie imprese agricole sulle possibilità che hanno in questo momento messe in campo dalle regioni e non solo dalle regioni e in particolare per ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti a seguito del prolungato periodo di interruzione dei vari servizi. Inizieranno questa sera alle ore 21 per essere portati a termine i lavori di sostituzione di 5 saracinesche della condotta idrica ubicate all'interno di una camera di manovra che si trova a Pescara su via Venezia, angolo via Firenze. Dalle 21 dunque ci sarà la chiusura delle condotte idriche e la mancanza di acqua riguarderà Corso Vittorio Emanuele, via Silvio Pellico, via Leopoldo Muzzi, viale della Riviera, via Matteotti e via Paolucci, con probabile calo di pressione anche sulle vie limitrofe. La durata dell'intervento è stimata in circa 8 ore a partire dalle ore 21 salvo complicazioni che dovessero manifestarsi in corso d'opera. Torniamo a Teramo, si concludono oggi i due giorni di workshop organizzati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Morise dedicati all'Africa. L'obiettivo principale dell'evento è stato quello di potenziare la rete di ricerca veterinaria con i 12 paesi africani, partner a salvaguardia della sanità animale. Tania Bonnici Castelli. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Morise ha incontrato l'Africa due giorni intensi per consolidare la rete di collaborazione che coinvolge 12 paesi africani con lo scopo di salvaguardare la sanità animale a livello globale. Non si può fare più ricerca in piccoli gruppi, non si riesce ad attrarre l'attenzione dei finanziatori, dei governi, dei politici e c'è il rischio anche di fare la stessa ricerca su più fronti, quindi sprecare risorse e capacità. Quindi il network è fondamentale. Costruire un network è complicato, noi siamo fortunati perché siamo già dentro un network e è tanto vero che in poco tempo abbiamo costruito questa giornata che ha lo scopo di potenziare questo network che già c'è, che è importante, ma l'idea è quella di vedere se riusciamo a rafforzare questo legame. Ad oggi sono circa 25 i paesi africani con cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Caporale di Teramo ha avviato collaborazioni scientifiche e attività di cooperazione internazionale. I progressi sono stati reciproci. È uno scambio reciproco, è una crescita reciproca. Quando parliamo di cooperazione, la cooperazione si basa su questo, sul fatto di crescere insieme avendo obiettivi specifici estremamente ben indicati che nascono dai bisogni, certamente, dei paesi africani, ma che intercettano anche i nostri bisogni. E quali sono, ad esempio? Sicuramente il controllo delle malattie animali, perché così facendo, se controllo delle malattie animali nei loro paesi, salvaguardiamo il patrimonio zootecico nostro. Contestualmente è fondamentale, lavorando nell'ambito del Ministero della Salute, supportare e migliorare la salute umana. I due giorni di workshop organizzati dagli ZS di Teramo al CIFIV sono stati anche l'occasione per incontrare imprenditori interessati a progetti di internazionalizzazione nel continente africano. L'esperto della gestione dei rifiuti Roberto Cavallo è stato all'Aquila per presentare il suo libro Keep Clean and Run, Pulisci e Corri, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della raccolta differenziata. All'Aquila siamo partiti con la raccolta differenziata proprio durante il terremoto. L'abbiamo fatta nelle tendopoli, la continuiamo a fare. Un consiglio da Roberto Cavallo, uno dei massimi esponenti nel settore della raccolta differenziata. La raccolta differenziata è, prima di tutto, e dobbiamo non dimenticarlo e ricordarcelo, in realtà è un servizio a noi stessi per dei prodotti, dei materiali che sono alla fine di un nostro processo di consumo. Quindi diciamo che un po' ci assomigliano, forse anche la ragione sociologica per cui non vogliamo averne a che fare, li abbandoniamo. In realtà le aziende e le amministrazioni che offrono servizio alle città, questo fanno, cioè portano via quello che noi non vogliamo più, ma l'importanza di portarli via in modo separato significa dare nuova vita a dei materiali. Qui alle spalle abbiamo per esempio il Tetra, perché è un materiale prevalente matrice di carta, quindi fibre molto buone che possono rivivere sotto altra forma, in particolare sotto altro cartoncino nello specifico. Allora è importantissimo fare bene la raccolta differenziata perché dopo c'è un'economia. Oggi si parla molto di economia circolare. Noi in Italia, avendo poche materie prime, siamo quasi costretti a cimentarci con il riciclo e con l'economia circolare. Significa dare posti di lavoro, significa proteggere l'ambiente in senso di consumare meno risorse, ma anche per le industrie essere più competitive, perché risparmio di energia e acqua, che sono materie prime molto onerose e quindi sono più competitive sul mercato globale. In un momento un po' complicato, ma in realtà in un momento in cui tu riorganizzi la tua vita, puoi riorganizzarla prendendo una nuova abitudine. In fondo, una volta presa l'abitudine, fa la differenziata in un'abitudine molto semplice, quindi basta proseguire. PIS teatrale organizzata ieri nell'istituto alberghiero di Popparozzi di Teramo è dedicata alla tragedia dello stadio Aiselle di Bruxelles, quando 39 tifosi morirono a seguito degli incidenti avvenuti prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. L'istituto di Popparozzi ricorda la data del 29 maggio 1985, triste data dove è occorsa la tragedia dello stadio Aiselle, durante la partita Liverpool-Juventus. Sì, attraverso una rappresentazione teatrale che sarà tra poco presentata, ai nostri studenti che hanno scelto di inserire questa rappresentazione all'interno dello spazio dell'assemblea dei rappresentanti di istituto. Quindi alcune classi della scuola durante l'assemblea potranno visionare questa rappresentazione teatrale che io credo sarà importante proprio perché rappresenterà per loro una lezione di vita per spiegare che in fondo la violenza è sempre qualcosa di negativo, in particolare quando è presente in una manifestazione sportiva, ma comunque in tutti i momenti della vita. Come nasce l'idea di rappresentare questa tragedia? Una delle tante proposte che ci vennero fatte all'indomani del premio del quale venimmo insegnati nell'ottobre del 2012, quello per i diritti umani, era una serie di opere, era una serie di accadimenti che avevano segnato la storia personale, ma anche più generale del nostro paese, dell'Europa, del mondo. La tragedia dell'Aisel è la tragedia che per noi italiani cambia in rapporto col calcio. Da quella notte, da quel maledetto 29 maggio del 1985, il calcio per i cinquantenni di oggi, per i ragazzi all'epoca della mia generazione, non fu più la stessa cosa. Da qui il bisogno anche di raccontare la vera storia dell'Aisel. Non abbiamo la presunzione di raccontare la storia assoluta dell'Aisel, ma una grande verità che mancava su questa tragedia. L'opera ricorda un vecchio detto indiano, degli indiani di America. Solo chi ha davvero rispetto per la morte può essere degno della vita. È un messaggio estremo, marziale, ma rapportandola ai nostri ragazzi è anche un messaggio di speranza. Sì, la rivalità calcistica, io sono per esempio tifoso della Roma, va bene la rivalità sportiva, ma ci deve essere rispetto per i principi universali. La vita è un valore assoluto universale. E trasmettere, condividere questo messaggio con i ragazzi significa, anzi forse soprattutto per noi adulti, significa un messaggio di speranza con il quale, attraverso il quale, guardare il futuro migliore. Altre iniziative riguardano maggiormente la parte pratica, specialistica del nostro istituto. Vedremo se ci sarà la presenza di esperti esterni che riguardano proprio la pasticceria, la cioccolateria, proprio a ridosso, diciamo così, per prepararci alla Pasqua. Quindi avremo uno specialista per la decorazione della pasticceria e anche un maestro pasticcere. Ieri sera a Montorio al Vomano si è ripetuta la tradizione del Carnevale Morto. Vediamo di cosa si tratta ascoltando il direttore artistico Vincenzo Macedone. La tradizione del Carnevale Morto si ripete anche quest'anno, una tradizione che a Montorio è viva dalla metà degli anni venti, grazie a un gruppo di studenti montoriesi universitari che andavano a Napoli e probabilmente avevano visto questa tradizione farsi in qualche paesino della Campania o addirittura se non dell'entroterra Terramano. Riportarono questa tradizione comunque a Montorio per colpire il regime fascista dell'epoca portando in processione il Carnevale su un asino che impartendo le benedizioni con un pesce di baccalà. Questa tradizione poi nel corso degli anni è mutata, è diventata una vera e propria processione funeraria dove il Carnevale è interpretato da una persona in carne d'ossa ed è questo un unicum a livello nazionale perché solo a Montorio il Carnevale viene interpretato da un uomo vero e vivo e vegeto e non da un fantoccio e soprattutto altra particolarità del nostro Carnevale è che si festeggia il primo giorno di quaresima quando in tutta Italia il Carnevale è finito già da un giorno. Questo è stato anche motivo dissacrante per prendere in giro un po' anche la tradizione, per prendere in giro non la religione ma il festeggiare, cioè diciamo il dissacrare la morte e la tradizione dei riti funebri del nostro centro-sud. Negli anni 50-60 poi le satire che erano parte integrante della processione hanno fatto in modo di far passare qualche guaio ai nostri predecessori. Oggi le satire invece raccontano fatti accaduti non solo a Montorio ma anche a livello nazionale e quindi quest'anno sicuramente tra le satire ci sarà un piccolo ricordo sia dei terremoti che ci hanno massacrato dal 24 di agosto che della neve che è stato l'ultimo disagio in termini di tempo a gennaio. Organizzata da Confartigianato e con il patrocinio dell'assessorato all'attività produttive a Pescara dal 3 al 5 marzo in Piazza della Rinascita si terrà il Festival del Cioccolato. Una manifestazione davvero molto golosa il caso di Dio? Certo, sarà un fine settimana veramente goloso e colgo l'occasione per ringraziare gli organizzatori di questo evento. Io amo definirli a metà strada tra artigiani e artisti perché riescono veramente a creare delle vere e proprie opere d'arte. E li ringrazio tantissimo perché con la loro iniziativa porteranno a Pescara tantissima gente. Ne trarranno sicuramente conseguenze i bar, i ristoranti, le attività commerciali e lo shopping. Quindi veramente bravi a questi ragazzi. Ci saranno tante iniziative all'interno di questa Kermess? Sì, sì, tantissime. Quindi vi aspettiamo in Piazza Salotto dentro la fabbrica del cioccolato, la ciocofabbrica, la prima fabbrica del cioccolato culturale itinerante in Europa. Dobbiamo spiegarlo bene. Vi aspettiamo in Piazza Salotto. Ci saranno numerosi laboratori per bambini con alcuni chef, pasticceri, cioccolatieri che abbiamo portato a Pescara. Io personalmente insieme all'artigiano perugino, al maestro Fausto Ilculani, spiegheremo tutta la filiera del cacao, dalla tostatura della fava di cacao fino all'alizzazione della cioccolata. E vi insegneremo anche a voi a farlo. Farete anche un bacio perugino in diretta? Lo facciamo domenica. Anzi, vi aspettiamo perché dopo vi insegneremo, lo faremo fare anche a voi. Quindi non mancate. Apriamo ora la pagina dello sport. Sampdoria Pescara, la gara di sabato pomeriggio ore 18. È stata affidata al direttore di gara Pasqua di Tivoli, assistenti di Fiore di Aosta e Locicero di Brescia. Oggi doppia seduta per il Delfino. Il tecnico Zeman probabilmente dovrà ancora rinunciare a Baibach e Gilardino, oltre che Campagnaro, Mitrizza e Bovo. Ancora le prese con l'influenza l'ex Fiorillo. Ci sarà invece un genovese doc ed ex Doriano al pari di Fiorillo. Parliamo di Francesco Zampano che ascoltiamo. Per Francesco Zampano quella di sabato a Genova, a Marassi con la Sampdoria, non è una partita come tutte le altre. Hai giocato anche nella Sampdoria, sei genovese, quindi giocherai a casa. Vabbè, quello sicuramente. Ho giocato fin quando ero piccolo, dai Pulcini fino alla primavera. Sono stati 12-13 anni molto belli, ero piccolo. Comunque sì, torno a casa, a Genova. Speriamo di fare la partita noi, di ottenere la vittoria e sicuramente fare una grande partita. Marassi è uno stadio che regala comunque emozioni. Pescara cinque anni fa in quello stadio conquistò una promozione in Serie A. Sì, mi ricordo, ha fatto pure il gol Caprari. Sì, sì, noi adesso settimana prepariamo bene la partita e cercheremo di comunque dare il massimo. Quello che non ci è riuscito contro il Chievo e di ripartire dal 5-0 comunque di Genova, quindi speriamo bene. Veniamo da una sconfitta domenica contro il Chievo che stanno preparando bene la partita e sicuramente loro vorranno vincere perché comunque Marassi è uno stadio importante, un tifo importante e vorranno fare bene anche per i tifosi, quello che vorremmo fare pure noi e per le persone comunque che vorranno a Marassi, tifosi del Pescara. E niente, speriamo di regalare una gioia anche ai tifosi. Lo dicevi anche tu prima, non dovrete commettere gli errori commessi al Bente Godi con il Chievo. Sì, sicuramente, in settimana ci stiamo allenando bene e speriamo di fare risultato. Chiudiamo con una notizia di Serie D, caos in seno all'Aquila Calcio dopo il licenziamento del direttore sportivo Alessandro Battisti. L'allenatore Massimo Morgia ha deciso di rassegnare le sue dimissioni irrevocabili di sue e di tutto lo staff che lo affianca. Nel pomeriggio Battisti e Morgia terranno una conferenza stampa per illustrare le loro ragioni. Intanto al posto di Morgia c'è da pochi minuti l'ufficialità. È stato chiamato il nuovo allenatore che è Pierfrancesco Battistini, ex tecnico tra le altre squadre del Perugia, con cui ha vinto un campionato di Serie D ed uno di seconda divisione. Peraltro nel comunicato stampa, da poco diramato dall'Aquila Calcio, l'Aquila ringrazia il tecnico Morgia per l'impegno profuso, augurando le migliori fortune allo stesso allenatore e al suo staff e comunica altresì di aver assolto tutti gli adempimenti pattuiti ad oggi e da loro maturati. E poi ancora su Battistini viene detto che a breve sarà comunicata il giorno e l'ora della presentazione ufficiale del neotecnico che peraltro ha indossato per due stagioni la casacca rosso-blu negli anni 90. È tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.